Grazie a tutti. 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 Abbiamo avuto la pista del ghiaccio più lunga d'Europa e questo ha avuto un grosso successo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La direzione in particolare perché le dimensioni lo rendono estremamente vivibile, estremamente piacevole. Le prospettive per questo 2015? Le prospettive sono ancora difficili ma sono in crescita perché è stato riaperto l'aeroporto, quindi ci aspettiamo dei flussi turistici dal nord Europa e ci aspettiamo anche di avere un ritorno consistente dalle iniziative che stiamo mettendo in piedi. Senza dubbio le avrete, state facendo un lavoro meraviglioso. La ringrazio tanto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gelaterie, alberghi, sale giochi. Io vorrei venire a vivere qui. Forse sarebbe ora di comprarmi una casa qui a Riccione. Allora cosa faccio? Io vado a chiedere informazioni a un esperto del settore immobiliare. Bene, incontro Antonio Spicciariello. Buongiorno a te. Allora, intanto Riccione, ma quanto è bella. Adesso abbiamo dato il benvenuto alla primavera, però arriva l'estate, ci si prepara, il sole c'è. Ma ci sono anche le case. Come sta andando questo mercato immobiliare che ci fa tanto tribulare? Diciamo che si sta riprendendo. Poi Riccione è un mercato a sé stante. Ha sofferto poco della crisi che ha coinvolto l'intero paese. Però c'è molta richiesta di immobili di prestigio. Sta andando bene. Parlavi di richiesta. Quindi qual è la casa che più viene richiesta nella riviera? Il trilocale è senz'altro il più richiesto. Poi ci sono le fasce di, parliamo anche di prezzi, ma tenendoli così, è sotto dei 350 e superiore ai 600. Purtroppo la fascia media è un po' saltata, come da tutte le parti. Invece per quanto riguarda gli immobili di prestigio ci sono richieste dappertutto. Gli immobili di prestigio sicuramente si rivolgeranno anche ad un pubblico straniero? O anche noi italiani riusciamo a comprarci, ad accapparrarci qualcosa di molto molto bello? Qualcosa sì, però la maggior parte sono stranieri. Abbiamo fatto delle trattazioni importanti per quanto riguarda degli arabi, clienti prestigiosi arabi e russi e qualche cinese. Ah, pure la Cina si è accorta di quanto sia bella Riccione. Eh sì, sì, sì. Si riesce oggi a trovare ancora qualcosa sulla spiaggia, cioè vicino al mare? Diciamo qualcosa c'è, c'è ancora. Di nuovo niente, però qualcosa si sta muovendo. Allora, la possibilità di acquistare una casa c'è, quindi possiamo dire un futuro più roseo? Qual è la tua previsione? Sì, sono sicuro che il futuro sarà sicuramente molto roseo qua. Anche perché con l'apertura, anche adesso mi hanno detto anche dell'aeroporto. Qua stanno riaprendo l'aeroporto che era stato chiuso, c'è rapporti direttamente con la Russia e con altri paesi. Sicuramente ci sarà una ripresa. Quindi se avete paura di trovare traffico sulla Milano-Bologna, ma prendiamo l'aereo. E per quanto riguarda Riccione abbiamo visto che possiamo mettere un più davanti alle previsioni del mercato immobiliare. Ma per quanto riguarda invece quello dell'Italia, quello un pochino più in generale, io chiedo all'amministratore delegato appunto di Coldware Banker Italy come stiamo andando? Dove andiamo Bruno Vettore? Direi che il 2015 si prospetta un anno con il segno più, nel senso che il numero delle compravendite generali dovrebbe superare le 450.000 in ambito residenziale rispetto alle circa 400.000 del 2014. Quindi finalmente un pizzico di ripresa che ci conforta in un ambito di stabilità di prezzi. Quindi direi che l'acquirente ha una grande scelta perché c'è molto in venduto sul mercato, ma i prezzi anche per il 2015 dovrebbero essere stabili. Per quanto riguarda invece l'affitto? L'affitto è sempre molto richiesto, sia in ambiti turistici come quello di Riccione dove siamo oggi, ma in ambito anche più residenziale perché la difficoltà di accesso al credito ha fatto crescere moltissimo il mercato degli affitti. Giovani coppie che non possono permettersi l'acquisto ripiegano sull'affitto. Quindi direi che la richiesta è sempre molto alta. Comunque si parla sempre di ripiego perché è bene a investire nel mattone? Ma sicuramente, poi noi italiani siamo molto affezionati all'immobile, più dell'80% delle famiglie sono proprietari di casa, rimane uno dei beni primari per la vita di ognuno di noi. E poi teniamo anche conto che sul medio termine, anche in momenti di crisi come questo, insomma sul medio termine gli immobili si apprezzano sempre e danno sempre delle soddisfazioni anche in chiave di investimento. San Marino Tennis Academy, a pochi passi da Riccione ho impiegato giusto un quarto d'ora perché se non vogliamo solo il mare ma bensì fare tennis il posto è questo. Io sono accanto a Giorgio Galimberti, personaggio molto importante. Ma è importante, qui a San Marino abbiamo costituito questa academy che sta andando molto bene, è nata nel 2009 e otteniamo discreti successi, devo dire, siamo campioni d'Italia a due anni consecutivi con una squadra giovanile nata proprio pochi anni fa e quindi i risultati sono buoni. Sono buoni anche perché lui è uno modesto ma lui è sostanzialmente il vice di Corrado Barazzuti. Beh sì, non si dice proprio vice di essere molto brava, grazie mille, sono un assistant coach, do una mano a Corrado a gestire gli impegni con le nazionali italiane maschili e femminili di Coppa Davis e Fed Cup. Ovviamente Corrado sono tanti anni, ho 14 anni che è capitano delle nazionali e dice di voler smettere nel 2016 e io mi sono candidato come futuro capitano. Ovviamente ci sono tanti personaggi che vogliono diventarlo, io sono uno tra quelli. Esatto e tu sei anche uno di quelli che ha tutte le carte in regola per farlo. Grande tennista, grande passione e infatti dicevi prima che nel 2009 nasce appunto questa accademia. Sì, è nata perché il presidente della federazione sanmarinese è un amico, Cristian Forcellini, per caso ci siamo trovati una sera e io ho detto ma scusami ma in questo bellissimo centro che ha tutto, campi in terra, campi in veloce, palestra, centro fisioterapico, campo da calcio, palestra coperta per allenarsi in caso di progetto. Ciccia rossa, terra verde. Qualsiasi superficie esatto, non ci facciamo niente e lui subito ha accolto la proposta e abbiamo creato questa accademia. Ovviamente è partita piano perché i progetti come tutti i progetti partono da zero, solo che dopo due anni già abbiamo avuto i risultati. I risultati per noi sono sia in campo che dal punto di vista di numeri, sono arrivati tanti ragazzi, arrivano da fuori, anche dall'estero. Non è una questione di associati, sono giocatori che si allenano all'academy, una trentina di giocatori e abbiamo in questo momento una SAT, una scuola tennis di altri 150 bambini partendo dai 4 anni in su. Il discorso è che i professionisti o coloro che vogliono entrare professionisti sono tanti, avere una trentina di giocatori che fanno agonismo è tanta roba. Arrivano anche dall'estero, abbiamo una giocatrice dall'Ucraina, Kovalets, che gioca nel circuito da WTA, abbiamo avuto anche giocatori italiani di livello e comunque essendo un'academy c'è sempre un rinnovo, giocatori che vanno e che vengono. Si parla di formazione, a mio avviso la formazione al giorno d'oggi è necessaria perché essendo diventato un mondo veramente competitivo da tutti i punti di vista, io voglio che le persone che lavorano con me siano formate. Formate bene, infatti Bruno Vettore lo sa molto bene, si occupa da sempre direi di formazione e oggi anche sullo sport. Sì, noi sono anni che operiamo nel settore, affianchiamo manager aziende e privati anche che vogliono crescere nei vari ambiti. La nostra specializzazione principale è il cosiddetto self-improvement, cioè il miglioramento personale. Parliamo di public speaking, parliamo di negoziazione, parliamo di comunicazione in genere, parliamo di strategie per poter comunicare meglio con gli altri. Io credo che incrementare la propria capacità di comunicare meglio con gli altri nel privato e nel lavoro aiuti a vivere meglio. E allora visto che abbiamo un'esperienza di molti anni, l'abbiamo definita, l'abbiamo costruito dei percorsi e li mettiamo a disposizione di privati, manager o aziende che vogliono frequentare i nostri incontri, i nostri corsi nei vari ambiti. Vi ringrazio, accanto a questi due campioni vado a mettermi le scarpette da tennis perché ora mi faccio insegnare da lui. Vi ringrazio, accanto a questi due campioni vado a mettermi i nostri corsi nei vari ambiti.